Ciao, sono Robin, good. Google, penalizzazioni, problemi sul sito? Hai sentito che possono chiudere gli account facilmente? Sei spaventato? Te lo hanno già chiuso? Hai paura che te lo chiudano? Vuoi qualche consiglio? Che consiglio ti posso dare? Il consiglio principale è cercare di essere onesto al 100% secondo le regole del mondo di Google. Non ti sto dicendo che le regole del mondo di Google siano le regole più belle, più simpatiche, più trasparenti o inequivocabili che ci sono, ma ti posso dire che se tu le rispetti e lo fai in maniera trasparente e proattiva, difficilmente avrai dei problemi. Quindi numero uno, se Google ti scrive che hai dei problemi sul tuo sito, non è che tu puoi dire, ah vabbè io ho dei problemi sul mio sito, ma guarda quello lì ha dei problemi ancora peggio del mio, quindi quello va, può andare anche il mio. Non ragionare così. Se Google ti scrive un'email o ti manda una segnalazione che ci sono dei problemi sul tuo sito, ferma tutto e non riaccendere le macchine finché non hai sistemato quello che è fuori costo. Anche se c'è qualcun altro che fa la stessa cosa e che Google tratta in maniera diversa. Cioè non è che puoi ammazzare qualcuno e poi quando viene la polizia dirgli, ah ma che volete da me? C'è quello che ne ha ammazzati tre. Cioè devi escludere questo tipo di tattica perché sennò sei assolutamente perdente con Google. Numero due, essere proattivo nel non fare il furgone. Cioè a Google non piacciono quelli che usano il suo sistema per fare dei soldi in maniera non troppo elegante, basata soltanto su centinaia di migliaia di page views ma poco succo da offrire ai lettori. Quindi cerca di offrire effettivamente dei contenuti validi, qualcosa che altri non hanno e vedrai che Google difficilmente ti creerà dei problemi. Questi direi che sono i due consigli principali che puoi tenere presente per evitare dei problemi con Google. Sii trasparente, se Google ti dice qualcosa fai quello che ti dicono, non stare lì a cercare di convincerli che hai ragione di Google e lavora sul pulito e sulla qualità. Non saranno segreti speciali, ma secondo me funzionano. Questo è il consiglio di Robin Good, per non avere penalizzazioni da Google. Ciao dal laghetto!